Il gruppo del PD Progetto VCO va all'attacco dopo il primo consiglio provinciale che ha sancito il passaggio in maggioranza di Lucio Scarpinato, letto nella lista che sosteneva il rivale Marco Stefanetta. Scarpinato ha assunto le deleghe alla gestione dei rifiuti. I consiglieri Stefanetta, Stefano Costa, Cinzia Vallone ed Emanuele Vitale commentano «Prendiamo atto del silenzio imbarazzante del consigliere Scarpinato di fronte alla comunicazione delle sue deleghe, lo stesso non ha riferito al consiglio nessun indirizzo di governo. Non un buon segno. Ci dispiace riscontrare un eccessivo nervosismo del presidente Lana nella conduzione dei lavori del consiglio provinciale, poco confacente al ruolo super partes che dovrebbe rivestire a tutela dell'assemblea tutta. Auguriamo allo stesso un buon lavoro in discontinuità con il metodo del predecessore Lincio». I consiglieri di minoranza rilevano anche di aver dimostrato lo spirito costruttivo e rispettoso del ruolo assegnatoci votando a favore degli ordini del giorno riferiti al Maggio di Stresa per la realizzazione della palestra al Collegio Rosmini e al progetto Hydrolife riferito all'ampliamento della zona ZSC del fiume Toce nei comuni di Domodossola e Villa Dossola, propedeutico alla conclusione del progetto stesso. Nel corso del consiglio, Simone Racco e Chiara Pagani, eletti nella compagine di Lana, dopo aver già rimesso le deleghe a loro assegnate, si sono costituiti in un gruppo indipendente. «Auguriamo buon lavoro al neonato gruppo di opposizione e impegno VCO», commentano i DEM, «costituito dai consiglieri rappresentanti il comune di Domodossola e del suo sindaco Pizzi, fondamentali per l'elezione del presidente Lana solo due mesi fa. Non è chiaro quale sarà il loro contributo al consiglio, non avendo gli stessi voluto riferire della loro scelta». Ma ne hanno anche per il comune di Verbagna, dove Scarpinato continua a far parte della maggioranza. «Auspichiamo che questa triste pagina di politica locale si concluda con l'allontanamento del consigliere Scarpinato dalle riunioni della maggioranza cittadina», commentano Costa, Stefanetta, Vallone e Vitale, del comune di Verbagna, affinché si dimostri ancora una volta che il centro-sinistra pone il rispetto degli elettori e delle istituzioni al di sopra degli interessi di parte. Per il momento dal capoluogo non arrivano commenti.